Hello everyone! Welcome or welcome back to my channel! Oggi ragazzi sono con un ospite speciale, Yolanda! Ciao a tutti! Oggi andiamo a scambiarci le nostre make-up bags e dovremo riuscire a creare un look con i prodotti dell'altra persona e siccome abbiamo un fototipo completamente opposti secondo me è una bella challenge perché io dovrò riuscire a far funzionare i prodotti che usa lei e viceversa e viceversa, quindi qui abbiamo le nostre bag però allora iniziamo a fare un'introduzione su Yolanda lei è una digital content creator ma nasce come make-up artist da 5 anni, da 5 anni sono nel settore più o meno moda ho iniziato subito a fare la truccatrice e da neanche un annetto ho iniziato a fare i contenuti digitali sui social allora metteremo tutti i link nel box in descrizione quindi seguitela su Instagram, seguitela su TikTok lei va molto forte su TikTok e ovviamente se non la conoscete potete andare insomma sui link così scoprite un po' che cosa fa sul mondo digitale prima di iniziare però questo video se non siete ancora iscritte al mio canale lei sapeva questa parte perché dovete sapere che lei fa parte della community io non lo sapevo, adesso fuori camera mi ha detto guarda che io ti seguo da tanto tempo e un po' non l'avrei mai immaginata sinceramente sì sì dai su YouTube forse è molto prima rispetto a Instagram o altri social ma perché cioè sono un po' nata con YouTube cioè la mia passione è iniziata appunto vedendo i tutorial su YouTube e che sono invece i tuoi beauty guru dell'estero preferiti? c'è qualcuno che ti piace particolarmente? allora mi piace un sacco Nicky Makeup ok mi piace impazzire proprio il suo stile mi piace anche Patrick Tuck mi trucca vabbè Makeup by Mario ok girl perché mi piace tutto quel mondo un po' glam anche a me nude sono ossessionata dai trucchi nude oppure full matte sì mi piacciono un sacco loro anche Indash credo di averlo pronunciato sì sai che mi ha scritto? oh my god sì allora mi ha scritto tipo un po' di settimane fa e mi ha detto guarda vorrei mandarti tutta la selezione della mia I was like oh my god mi fa mandami tu al tuo indirizzo mi ha detto sì sì subito subito quindi adesso speriamo che mi mandi un po' di cose altra cosa visto che lei è Makeup Artist mi piacerebbe tantissimo che tu venissi a truccarmi assolutamente eh che dite voi ragazzi fateci sapere allora se la risposta è sì commentate con questa emoji se la risposta è no commentate con quest'altra emoji però dovete dire anche perché no certo sì e quindi niente dai allora adesso iniziamo e partiamo dallo scambio delle bag sei pronta? sono super curiosa ho messo varie cose anch'io ho messo due palette vedrai due scelte di ciglia finte sì anch'io vari rossetti vari blush sì anch'io io li ho messi sia magari un po' più matte perché io sono a periodi mi piace tipo la base full makeup completamente opaco oppure con qualche altro prodotto un po' più glowy ok oscillo tra queste due è anche tipo labbra completamente nude oppure labbra bordeaux ultimamente sono fissa con le labbra bordeaux ok perché ho tipo un po' ombre più scure come lip liner ok ma anche nude le faccio anche così e dentro tipo rosse ti metto queste due lip liner ok oggi mi sento buona vedremo 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 lei ha deciso di darmi la side by side è stata molto buona perché io amo questa palette invece Loretta mi ha dato Anastasia Beverly Hills ma questa è una delle ultime sì sì è l'ultima oddio questa la volevo troppo provare io non ce l'ho bellissima vabbè come range colori ci siamo sì sì molto bella invece la side by side è una delle palette che io utilizzo anche nel tuo lavoro cioè oddio dipende dal lavoro perché io trucco anche molte influencer ah ok quindi magari se hanno un evento si moda un po' meno sinceramente ok anche questa beauty è super carina sì sì è la love fest che secondo me è una palette super sottovalutata è molto bella ti ho messo anche il mio non so se usi primer io no ok non usi primer occhi però utilizza magari degli ombretti in crema infatti ti ne ho messo uno però della shade non ne sono ho mai non ci credo anche io l'ho messo uno però non lo so davvero di danessa sì sì eccolo non so se ti può andare bene morta raga non ci sto credendo beh abbiamo gli stessi gusti sì beh lei è super buona guardate cosa l'ha messo qua una delle mie matite preferite ok anche lei e mi sa che abbiamo messo gli stessi colori anche sì raga non ci sto credendo guardate no non ci credo ci siamo messi d'accordo giuro eh è vero sì ah questa è una vita che la volevo provare beh questa è fantastica ok girl io la utilizzo sia sulle guance che sulle labbra come rossetto partiamo let's start tu cosa utilizzi? eh ovviamente userò questa bella mia dai su eh io che buona io la metto tipo in maniera a modi eyeliner parto sulla parte esterna dell'occhio e la smoo verso l'esterno come si appassiona eyeliner come ti sei appassionata il trucco tu? allora sarà banale ma io mi incantavo guardando la mia mamma truccarsi ma tipo ne fai quanto io sono del 98 quindi stiamo parlando di pieno anni 2000 quindi si usava questo ombretto azzurro poi mia mamma è dura cioè proprio super olivastra ok quindi questo azzurro non so se ne stava tanto bene vabbè erano quegli anni in cui andava tutta quella roba ash esatto quelle tipo lei non ha mai utilizzato fondi e concealer andava con questa terra arancione che lei olivastra quindi lei stava malissimo quindi se la spalmavamo di cipre su tutto quanto il viso io aspettavo che lei andasse a lavoro così poteva approfittarle di rubarle i trucchi e truccarmi in bagno poi tornavo a casa io con ancora residui diceva cosa hai combinato? niente quindi si guardando la mia mamma e poi ho sempre avuto questa passione del make up in generale truccavo tutte quante le mie amiche magari si usciva il weekend e truccavo tutte quante le mie amiche prima di uscire e poi ho fatto danza per tanti anni dai si e quindi alla fine dell'anno che facevamo questo saggio truccavo tutte quante noi no mi è sempre piaciuto poi da lì ho capito che volevo farla diventare appunto la mia professione quindi hai studiato? si quindi lei è una make up artist pro raga si ho fatto un'accademia tra l'altro americana l'ho fatta in inglese qui a Milano 5 anni fa e mi aveva più commissione diplomata e iniziato subito a lavorare quindi nella scuola si imparava l'inglese? era proprio in inglese tutto io facevo tutte le lezioni in inglese siccome c'erano un sacco di richieste per farla in inglese c'erano pochi posti quindi ho aspettato mesi prima di iniziarla perché volevo troppo fare l'inglese anche perché lavorando comunque nella moda cioè la maggior parte dei modelli o delle modelle sono tutte quante straniere passatemi il termine e quindi poi per fortuna avevo in classe una ragazza indiana e quindi ho avuto anche la possibilità di sperimentare non di imparare come lavorare su pelle scure perché gli indiani hanno una pelle molto difficile da truccare perché secondo te? perché loro sono tanto livastre hanno dei sottotoni paradossalmente quasi sembrano freddi ma poi alla fine non lo sono e poi loro non so per quale motivo si vogliono vedere più chiare ma non lo so cioè loro hanno proprio allora questo è un problema purtroppo di tanti continenti e deriva tutto dal colonialismo perché quando sono arrivati gli europei a bussare alle porte niente loro hanno letteralmente devastato queste nazioni e gli hanno inculcato che bianco è bello e tutto il resto non lo è anche per esempio in Africa è così in Africa ci sono tipo anche le creme schiarenti ma anche in India in Asia si ci sono anche i media non aiutano perché se tu vai in India e accedi la televisione Bollywood sono tutti chiari ma difficilmente specialmente le donne facevo tutti gli swatch riguardanti fondotinta adatti per la sua tipologia di pelle per il suo colore loro erano assolutamente no questo è troppo scuro quando magari era la loro shade e volevano tipo una mia shade cioè che era completamente diventava bianca no ma loro è proprio super contento poi non lo so sono pochi i brand che hanno i sottotoni olivastri sono pochissimi è veramente difficile ma anche brand grandi sì 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 che bello l'occhio allungato tu è bellissimo su questa cosa sono abbastanza fortunata yes l'occhio abbastanza allungato è una palpebra bella bellissimo sì beh anche la tua palpebra è bella io non è che l'amo particolarmente no perché? perché è troppo grande è troppo alta quindi chi non sa truccare me la riempie tutta senza fare una no ti prego quindi tu hai usato adesso la matita io ho usato il cupis aerodinabla e ora vado a fissarlo penso che andrò con questo qua ashes che è un freddino e vado a ripassarlo e vado anche sulla mia palpebra fissa a creare ombra mi piacciono molto i colori freddi che non ho ancora capito vero? madonna che non ho ancora capito se mi stiano bene o male a te piacciono i colori caldi ti stanno meglio i colori caldi? allora a me piacciono i colori caldi però adesso sono in una fase in cui sto tornando a tipo i rossetti rosini quando sono stata a Londra ho preso tipo di rossetti tutti sul sottotono rosa invece di solito io vado sui pescati ok io ci tengo il mio kit cioè non è che vado a prendere solo prodotti che possono star bene a me o in generale a pelle chiave cioè io li prendo in generale cioè prendo 2000 correttori qualsiasi shade infatti ho visto prima ho aperto il kit ho visto di correttori molto scuri la signorina è molto preparata sì no 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 ma ci tengo tantissimo in alcuni set mi sono capitati degli avvenimenti veramente spiacevoli c'è nel senso che magari per brand cioè campagne pubblicitarie importanti di brand che tu dici beh me lo stai chiedendo veramente magari c'erano modelle nel cast deep dark o comunque con una colorazione di pelle abbastanza scura mi chiedevano se io avessi prodotti o dovevo farli portare alle modelle a parte che io sono sono una truccatrice vengo comunque pagata per fare un lavoro quindi significa che io debba avere i prodotti per truccare una modella cioè ma non esiste né in cielo né in terra che una ragazza si deve apportare i prodotti da casa per fare la campagna ma è così ma è così per le nere per le persone nere è così ora vado con questo più scuretto vado nella parte esterna io ho usato la cupids arrow numero 2 e poi ho preso il nero per iniziare a fare la wind io sotto sotto mi sa che copierò il look che fa lei però lo farò su pelle scura se riesco bisogna vedere solo le stesse cose che hai tu è allucinante come voi makeup artist usate solo pennelli piatti io sì non lo so perché magari con i pennelli un po' così piatti come se tu avessi più percezione eccezione del prodotto di dove tu lo stai andando a mettere e si è un po' più precisa diciamo perché io ora se andassi con un pennello da sfumatura a metterlo tutto qua e poi qua stavrà secondo me fare un macchione bello scuro marrone poi lo voglio solo concentrato verso l'esterno e quindi preferisco un pennellino un po' più sì da precisione ho usato questo qui di Nabla adesso di precisione e poi ho sfumato un po' fuori così con questo adesso sto utilizzando clan questo che è un po' freddino però mi piace lo sto mischiando insieme a Entitled invece ora prelievo con un pennellino bello piatto e lo bagno un pochettino con il setting spray e vado a prelevare questa shade Royal ma queste unghie audaci dove le hai fatte? sabrie qua a Milano le unghie i tatuaggi è un po' il mio alter ego perché io come persona sono molto tranquilla è molto semplice a me piace stare a casa vedermi un film o bermi la mia tisana veramente? anche io sono così cioè io mi piace proprio sono una ragazza semplice anche io una basic p***a proprio totale sono come te è vero sì sei come me lo vedo sì il mio aspetto fisico le unghie i tatuaggi è un po' il mio alter ego come se vorrei ma non posso capito? cioè sono un po' così io adesso vado con la Cupid Sarro questa qui è la numero 4 la nera e vado proprio a creare un vero e proprio eyeliner se dovessi vivere con un solo brand per tutto il resto della tua vita oh mio dio e fare il full face quale brand sceglieresti? è di difficilissima perché ne ho tipo 3 just one just one vabbè ne metto due you can't dai ti dico nars ma anche perché ho tanto di nars io cioè io lo uso proprio quotidianamente io Uda Beauty Uda Beauty? loro hanno un range di rossetti e di matite anche che hanno fatto molto bene e gli ombretti belli oppure se dovessi scegliere un altro brand Anastasia Anastasia non lo so amore io lo vedo proprio che sta un po' decadendo allora sì la concorrenza sicuramente rispetto a qualche anno fa è aumentata ci sono molti più brand molti più creator it's true però allo stesso tempo cioè loro hanno veramente delle palette bellissime hanno una texture meravigliosa in più hanno anche i prodotti base ti puoi truccare con loro uh adoro ho messo questa di mesauda 108 andromeda lo sapevo lo sapevo che l'avresti usata amo alla life secondo me l'ha penalizzata tantissimo ad Anastasia è quando sono uscite tutte quelle palette madonna vero secondo me ci sarà stato un leak di prodotto e quindi loro non sapendo come gestire la situazione hanno iniziato a raffica proprio letteralmente a buttarle cioè loro prendevano palette le lanciavano voglio provare questo eyeliner di Too Faced perché lo provai una volta e non è rimasto entusiasta veramente vabbè già il fatto che ha le setole 80 punti a grifondoro io amo gli eyeliner a penna sì io quelli liquidi proprio secondo me è super difficile farlo con quel infatti ci sono quelli di Extralandia per esempio che cioè so che sicuramente sono buone perché comunque Christian è bravo nel make up si trucca bene tutto però non lo so mi inibisce mi inibisce tantissimo il fatto che sia sono difficili eh cioè devi avere veramente una mano super precisa cioè devi avere tanto controllo su invece con la penna vai cioè è molta più padronanza secondo me assolutamente concordo ok io oggi proprio super bold con l'occhio che bella ma cosa hai messo ho messo questo all'interno e questo qua bellezza questa è la mia palette preferita di tutte quelle con cui sono scelta questo mascara mi piace è molto corposa la texture quindi bisogna fare attenzione io faccio questo trick con questa mattina nera per chi ha problemi a fare il cut eye la vado a mettere nell'angolo interno proprio vado a sporcare proprio la rima interna dell'occhio e poi con un pennellino magari se non sono stata super precisa vado a sfumare il tutto è come se creassi un cut eye diverso e questo fatto di non essere andata anche con l'eyeliner fino a qua fa allungare ancora di più l'occhio uuu infatti vedo si sembra tipo super chilometrico e vado a fare la stessa cosa non in tutta la rima solo nella parte esterna con questo penne all'olio fa un punto luce uso questo qua ve lo vado a applicare allora lei ha questa palette qua per l'highlight e quindi io utilizzerò questa tra l'altro questa qui di palette ce l'ho anche io l'ho utilizzata per il video che ho fatto con Vogue Beauty Secrets l'hai fatta me la sovra in Italia la devo vedere che è un super golo per me allora io c'ho una cosa c'ho un po' la sindrome dell'impostore quando faccio tipo delle cose belle non le flexo tanto no la sbagli soprattutto queste cose belle importanti che sono proprio dei traguardi si si tipo poi non è che le devi flexare perché flexare una cosa in maniera come a forzare non è bello però queste cose è tipo un traguardo sei contenta di aver fatto questo step importante della tua vita allora pure io sono una cioè che magari se mi capitano delle cose super belle cioè non vado lì ma le sai che ha fatto ma no 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 cioè non sono così sono andata al festival di Venezia a truccare che comunque c'è ok girl e ho truccato una modella famosissima dici il nome subito è di Victoria's Secret la come si chiama la Josephine Skriver ok classica bionda con le occhie azzurri chilometrica cioè comunque era una bella roba mia mamma quei giorni io con mia mamma mi sento mia mamma mi chiamo un giorno mi fa e dove stai? sto a Venezia ma come stai a Venezia? non mi dici niente perché io mi dimentico cioè proprio mi dimentico di fare queste cose però è sbagliato perché vedo certa gente in giro che fa niente pare che fa chissà cosa è true veramente è bello questa mascara è stupendo ma fa delle ciglia finte si si è bellissimo il sadoran non me l'aspettavo così perché di solito quelli in seto le danno un sacco di volume e tendono un po' a farle appiccicare ma invece nars questi blush qui sono belli ma devi stratificare parecchio sono praticamente impercettibili si io vado sempre con tipo quello di Kylie Dior che è un rosa freddo perché come ho detto prima sono ossessionata dei colori freddi vado nella parte dello zigomo più alta diciamo e dopo vado a stratificarlo con un pop ma come sei stata bravissima a scegliere sta roba si adoro faccio sempre e vado praticamente sopra un po' sotto l'occhiaia per fare appunto quell'effetto un po' Kylie diciamo si si I'm obsessed I like it sono stata brava dai usiamo questo questa parte qui ma è luce pura si è bellissimo è amo I like it ok vediamo un po' che matite mi hai messo questa nude truffle a me è trasparente se dire letteralmente voglio utilizzare questa qui ah voglio vedere come ti sta quella quella è una delle mie preferite ma ti sta bene bella mi piace tantissimo Daniele mi ha insegnato a riflettare la linea il contorno proprio delle labbra però lui fa una cosa particolare va un pochino fuori sopra sull'arco e poi dentro nostra bordo va tipo all'indentro idem poi li faccio così per dare tipo un effetto più così rientro anche un po' per avere questa situazione un po' ombre anche io sto facendo la stessa cosa io sempre faccio così ah bello questo mi piace che colore è? yes honey vado con lui io qua devo farmi scuio come si deve come stai facendo? su di me non è così freddo so io vedete come caviano i rossetti you need to be very careful with the swatches forse avrei dovuto usare anche la 5 all'interno perché ha potenziale questo liquid lipstick però la matita che ho messo è troppo scura c'è troppo stacco quindi adesso lo rifacciamo da capo allucinante come cambia il make up in base all'incarnata ma tantissimo ma io lo vedo anche tipo con mia sorella che lei è più chiara di me ed è rosata cioè una matita nude che può stare bene a me su di lei è già più scura ora io adesso mi devo aiutare vado con questo blush qua e lo scaldiamo ti ho messo le alfa non ti ho messo quelle totali perché tu c'hai le belle strong no no perché ho detto mettiamola un po' in difficoltà no io le uso anche così veramente sì perché fanno l'effetto ancora più lungato è un po' più naturale diciamo io metto anche questo qua di Kylie qua I wouldn't go out with this normally però sono riuscita comunque a farlo funzionare e adesso metto anche io le ciglia ma tu sopra ci metti il mascara sì tu no no io non le metto mai il mascara io prima utilizzavo la banda senza mascara cioè andavo senza mascara e mi mettevo la banda sopra e dopo mettevo il mascara morto ora vado direttamente prima col mascara e dopo ci vado a mettere la banda e ho i ciuffetti ma anche io faccio così ti durano molto di più le ciglia le rimetti anche 15 volte se le tieni bene sì invece con queste cioè facendo così devo andare ogni tot comunque vabbè lo faccio anche ora a pulirle poi mettiamo il link ovviamente di tutto quello che abbiamo utilizzato qual è il tuo fondotinta preferito del momento ora del momento io non ho un fondotinta preferito mi viene fatta spesso questa domanda e certe volte io non uso proprio il fondotinta vado di correttore tipo a modi base oppure vado e verrà strano con il face in body di MAC ah top io lo utilizzo io lo utilizzo tanto sui set perché comunque è come se fosse un'acqua colorata perché io ho queste cose che io odio le linee d'espressione io ho tante linee d'espressione qua e se vado a mettere un fondo un po' più ma neanche coprente cioè se vado a mettere un po' più di prodotto in questa zona se stratifichi mi ritrovo tutto il prodotto qua ed è una cosa io sto sempre con uno specchietto a controllare e siccome non voglio che accada ciò evito e quindi vado a mettere o questi fondi super leggeri o appunto vado a considerare tutto quanto il viso però ti direi o il face in bagni di MAC e ultimamente sto utilizzando quello nuovo di Nars ah ma questo qui è top come si chiama? Light Refletting Foundation ragazzi questo è forse uno dei prodotti migliori formulati così leggeri perché sì è molto leggero però comunque copre abbastanza sì è vero effetto seconda pelle proprio molto molto bello d'estate quello lì è top ma tutto l'anno quello lo puoi usare sì sì anche ora in inverno cioè in misto sto trovando veramente da dio tu hai mai provato invece l'altro quello più coverage ah ma quello è il mio preferito uno dei miei preferiti ah ascoltami molto bene cara che ha la pelle vista grassa quello lo adora è molto bello quello ti pialla proprio ti fa la pelle di porcellana sì ti copre tutto qualsiasi cosa che tu hai è vero macchie di scromie però è sottilissima sì sì è per quello che è bello perché è molto sottile però ti pialla cioè proprio ti mura il viso è letteralmente a livello di coprenza cemento armato però a livello di pesantezza di percezione di prodotto cioè sembra tipo una polvere luce bene ragazzi allora questi sono i nostri look completati devo dire che siamo riuscite dai a fare qualcosa di interessante io sono super glitterosa lei è molto anche io sono un po' uscita dalla mia comfort zone del momento però del full matte ho fatto questo bronzy look luminoso molto autunnale sì è vero molto autunnale ci piace anche la lip combo non mi dispiace è sempre delle mie corde leggermente più scura però sono super soddisfatta sì sì stai bene che ne pensate voi fateci sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensate eh bene se siete arrivati a guardare il video fino a qui scrivete hashtag Yolanda il saluto di oggi va a cami beauty 33 ciao cami forse camilla ti salutiamo ti mandiamo un bacio enorme e se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina instagram seguiti anche Yolanda attivate tutte le notifiche e commentate su questo post trucco autunnale trucco autunnale bene ragazzi siamo giunti alla fine di questo video questo è il momento per iscriversi l'iscrizione è gratuita e se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un like così youtube l'algoritmo inizia ad apprezzarmi e spingermi di più sulla piattaforma io ti ringrazio tantissimo grazie mille a te è stato un super piacere mi sono divertita un sacco bene sono contentissima vi lascio il link di prodotti che abbiamo utilizzato qua sotto e anche il link di Yolanda di Instagram TikTok quello che vuoi ok un bacio ciao ciao ciao